Solo il potere di Gesù può aiutarci ad uscire dalle zone morte del cuore, dalle tombe di peccato che tutti noi abbiamo. Così Papa Francesco ha parlato del Vangelo sulla risurrezione di Lazzaro nella sua visita alla parrocchia romana di San Gregorio Magno alla Magliana, la sesta dall'inizio del pontificato. Nell'Omelia il Pontefice ha ricordato che tutti abbiamo parti del nostro cuore un po' morte. Tutti siamo peccatori, ma se noi siamo molto attaccati a questi sepolcri e li custodiamo dentro di noi e non vogliamo che tutto il nostro cuore risorga alla vita, diventiamo corrotti e la nostra anima incomincia a dare, come dice Marta, cattivo odore, l'odore di quella persona che è attaccata al peccato. E la Quaresima, ha proseguito il Papa, ci aiuta a pensare dov'è la parte morta della nostra anima e a togliere la pietra della vergogna, ascoltando Gesù che ci dice «Vieni fuori, esci da quella tomba che hai dentro». Quindi ha ricordato che nella quinta domenica di Quaresima quelli che si preparavano al battesimo ricevevano la parola di Dio ed ha donato ai fedeli, come poco prima all'Angelus, un Vangelo tascabile. Prima della messa, Papa Francesco aveva incontrato i bambini e i ragazzi della parrocchia, sottolineando che non si può vivere bene senza una vera speranza, che mai delude perché è un dono di Dio. Agli ammalati e agli anziani ha spiegato che siamo stati redenti con Gesù nella croce e quando viene la croce della malattia, noi somigliamo a Gesù. E dopo l'incontro con i genitori e i bambini battezzati da poco, il Papa ha parlato ai volontari della cooperativa La Prora per il reinserimento lavorativo di ex detenuti ed ex tossicodipendenti, indicando nella propria debolezza il luogo migliore per incontrare il Signore. Gesù lo troviamo bene nei nostri peccati, nelle nostre colpe, nei nostri sbagli.